Gentili telespettatori, buona giornata. Ci sono novità per quanto riguarda il canone Rai che adesso uscirà dalla bolletta. Ci sarà un nuovo modo di pagarlo e probabilmente sarà anche più carico, ma vediamo che cosa succede. Dal 2023 l'abbonamento obbligatorio della TV di Stato, organo di propaganda dei governi che ci sono nel momento, si è impegnato a scorporare dal 2023 il canone dalla bolletta della luce, così la luce vi sembrerà più bassa. Sono delle tecniche come le tecniche di Okuto, di Kenshiro. Ti tolgo il canone dalla bolletta, così tu alla fine credi che la bolletta è più economica. Viene via dalla bolletta della luce, accogliendo un ordine del giorno alla camera, che comunque non ha potere vincolante. Si dicerà anche in che modo automatico farlo pagare a tutti. Eppure l'inclusione nella bolletta della luce aveva rappresentato il modo certo per recuperare la portentosa evasione sul canone Rai, stimata intorno al 30%. Beh, attenzione, attenzione. Nel 2020 le entrate Rai, non so se poi tutto va alla Rai o lo Stato si tiene qualcosa, hanno superato, attenzione, 1,72 miliardi di euro. 1,72 miliardi di euro, con un gettito da canone ordinario pari a 1,64 miliardi. L'estrapolazione della tassa televisiva della bolletta elettrica nasce da un vincolo imposto da Bruxelles, che ha condizionato la concessione dei 239 miliardi del PNRR anche a questa riforma. L'Europa è rimasta inorridita dalla bolletta della televisione di Stato dentro la bolletta della luce, il canone dentro la bolletta della luce. Ha detto, ma che cos'è sta roba? Se vi diamo i soldi togliete questa porcheria. Secondo la Commissione europea, infatti, il canone Rai così riscosso penalizza le bollette dell'energia che diventano più care, impedendo ai cittadini di gestire in un altro modo il pagamento dell'imposta per la televisione pubblica. E quindi il nostro paese, per rispettare gli obiettivi del PNRR, eliminerà il prelievo dagli oneri impropri dei costi dell'energia e il canone TV tornerà ad essere un documento separato dalla bolletta, nell'ottica di una maggiore trasparenza. Nell'ottica. I fornitori di elettricità non saranno più obbligati a richiedere tramite le bollette somme che non sono direttamente correlate con l'energia. Era stato introdotto dal governo Renzi, che aveva pensato bene, lo metto nella bolletta, così nessuno può scappare. A partire dal 2016 nella legge di stabilità, il regalo del Renzi, con l'intento dichiarato di contrastare l'evasione fiscale. Quindi avrebbero dovuto cancellarlo, cancellare questa stupida tassa. La televisione di Stato, se la paghi lo Stato, la televisione che è utilizzata per fare propaganda del governo che c'è al momento, dovrebbe pagarsela lo Stato. Altro che pagare milioni e milioni ai conduttori che imitano la televisione pubblica e poi non sono capaci a fare soldi come la televisione pubblica. La RAI ha il canone, gli aiuti di Stato e la pubblicità e a malapena a volte arriva in pari. Capite che è fallimentare, andrebbe tolto il canone. Adesso fate come fanno le televisioni private, loro guadagnano, siate capaci anche voi, ma non sono capaci. Incassando il di più, il governo è riuscito ad abbattere il costo medio dai 113,5 euro ai 90 euro attuali. Il governo dice, visto che adesso pagano tutti, noi abbiamo abbassato anche il canone. Ma la RAI sta chiedendo un aumento del canone perché è troppo poco. Ma scherzate, quasi due miliardi per il carrozzone da mantenere. Bisogna vedere come ovviare ai mancati incassi. Nulla cambia per quanto riguarda tablet e smartphone. Il Parlamento è infatti naufragata la proposta avanzata a fine 2021 per far pagare la tassa. Non solo ai possessori di un televisore, ma anche proprietari di un qualcosa per vedere i programmi via internet. Come se uno, al posto che il televisore va a vedersi la RAI via computer. Ma in che film l'hanno visto? Bene, chi ha beneficiato fino adesso dell'esenzione, dal versamento dell'imposta TV, grandi anziani, famiglie con reddito in sé, basso, nuclei che possano dimostrare e attestare di non possedere apparecchi televisivi, dovrà probabilmente continuare a presentare una nuova richiesta ogni anno, entro la fine del mese di gennaio, se le regole restano lo stesse. Resta poi da vedere come mettere all'angolo i potenziali evasori. Bene, pertanto questo è quello che sta succedendo. Ho letto un articolo che diceva super stangata, super stangata. Questi sono i soliti articoli, no? Gli articoli clickbait per farti aprire l'articolo e far pagare di più le pubblicità. Canon e RAI sarà una super stangata. Io, parlandovi di quello che c'è scritto nell'articolo, la super stangata non c'è. Probabilmente se lo Stato non riesce a recuperare ancora i soldi di prima perché ricomincia l'evasione, allora rialzerà di nuovo la bolletta. Quindi da 90 magari tornerà di nuovo a 120. Ecco, quindi forse la probabilità di super stangata se non pagheranno tutti come prima pagavano nella bolletta obbligatoriamente della luce. Bene, io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi auguro buon proseguimento di giornata, ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti. E poi ricordatevi che c'è anche Teleitalia Seconda Rete qui su YouTube dove ci sono video di politica, di notizie, di fai da te. Poi questi video vengono dopo qualche ora condivisi nella pagina di Facebook che si chiama Teleitalia. Grazie a tutti per avermi ascoltato e buon proseguimento di giornata. A presto, grazie. Grazie.